anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2.3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il numero 83.473 del 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza anche a tale quota, disponendo però l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate e alla Regione, nell'ambito dei piani e programmi coerenti con la specifica destinazione ai sensi dell'articolo 1,253 della legge 24 dicembre 2012, la numero 228 e successive modificazioni. Voglio infine assicurare agli onorevoli interroganti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, rendendo disponibili gli strumenti di integrazione salariale prevesti, secondo la normativa vigente, in considerazione degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati. Grazie. Grazie, Sottosegretario. La deputata Maria Grazia Rocchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sì, grazie. Ci ringrazio il Sottosegretario della risposta, ma vede per noi toscani e per il Paese è drammatico vedere l'orgogliosa Livorno sprofondata in una crisi che ormai non è solo economica, è sociale e sociale, ma è anche culturale. È dunque una crisi che supera le dinamiche congiunturali e rischia di trasformarsi veramente, drammaticamente, in una crisi strutturale. Perché senza il nuovo ossigeno, che solo la fiducia nel futuro può produrre, si perde la voglia e la capacità di investire, non solo di investire in impresa, ma anche in se stessi, di investire nella propria crescita umana, nella propria crescita professionale. L'analisi attenta dello stato di crisi, è stato ben detto dal Sottosegretario, della crisi della costa toscana e di Livorno in particolare, è stato ampiamente esaminato. Così come sono stati valutati i nuovi spazi di ripresa industriale, peraltro già avviati, e le potenzialità che l'intero tessuto industriale può ancora esprimere, i vantaggi competitivi che può offrire a privati investitori. Sono valutazioni che, insieme all'impegno e alla determinazione del Presidente della Regione Enrico Rossi e delle amministrazioni locali, hanno permesso di definire i comuni coinvolti quali aree a crisi industriale complessa. Hanno convogliato sulle zone interessate oltre 500 milioni di risorse pubbliche, alle quali si prevede si aggiungano 150 milioni di risorse private. La volontà dunque di fare della costa toscana un esempio virtuoso per tutta la Regione per il Paese, di come si possa utilizzare ogni leva dell'innovazione e della riqualificazione produttiva, della funzionalità infrastrutturale, è un impegno preciso che Stato, Regione e amministrazioni locali hanno assunto siglando questi accordi di programma. Ma i piani, lo ripeto, dispiegheranno effetti in tempi medio-lunghi, i tempi che spesso non coincidono con quelli degli ammortizzatori sociali impiegati. Purtroppo le situazioni di crisi sono molte, differenziate per il settore produttivo, per profondità e per durata della crisi. Sono crisi che il Governo conosce e per la loro soluzione non ha mai risparmiato energie. Vedo che anche in questa occasione l'attenzione costante e il monitoraggio delle situazioni dalla risposta del Sottosegretario mi lascia intendere che non mancheranno. I lavoratori, vede, hanno accolto con rinnovata fiducia l'impegno delle istituzioni concretizzato con l'anvio degli accordi, ma ogni fiducia può veramente vacillare di fronte al tempo che passa e alla fine di ogni sostegno al reddito. L'impegno del Governo, per esempio, è un per quello che chiamerei dunque l'ultimo miglio, è indispensabile per rendere produttivo ed efficace lo sforzo finanziario pubblico già in atti. È indispensabile ed atteso dalle lavoratrici e dai lavoratori che hanno intenzione di non abbandonare la loro città, perché hanno voglia e capacità di rimettere in gioco la loro ricchezza professionale e le potenzialità infrastrutturali di tutto il territorio, le sue sinergie. Dunque sono parzialmente soddisfatta di sentire che comunque delle risorse finanziarie esistono, esistono in capo alle disponibilità regionali, esistono nella legge di stabilità. Si tratta di vedere se queste misure rappresenteranno la concreta risposta alla fase che ci attende di qui al dispiegamento completo di quella reindustrializzazione e riqualificazione e reinserimento produttivo che molte famiglie a Livorno e nell'area costiera stanno aspettando. Nelle sue parole, sottosegretario, sento empatia e forte volontà di proporre soluzioni. Le ho lette, le ho citate. Si tratta di vedere quanto queste soluzioni riusciranno a dare le risposte attese. Le ricordo che veramente questi impegni sono importanti e dovremo restituirle a tutti i lavoratrici e ai lavoratori che oggi insieme a me ci ascoltano. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente numero 1173 dei deputati Carrescia ed altri concernenti iniziative per il riconoscimento dello status di sordo cieco a tutte le persone che presentino entrambe le minorazioni e per garantire relativi diritti. Chiedo al deputato per Giorgio Carrescia se intende illustrare la sua interpellanza. Sì, prego. Grazie Presidente. L'interpellanza vuole porre all'attenzione e comprendere gli intendimenti del Governo in merito alle criticità e alle difficoltà che incontrano coloro che sono affetti da una minorazione visiva ed uditiva, totale o parziale, la sordocecità. È una minorazione che non consenta alle persone di svolgere appieno le normali funzioni della vita quotidiana. È una di quelle più devastanti e di ostacolo alla partecipazione della persona alla vita civile. Proprio in ragione di questa peculiarità il Parlamento